come a giardinieri come collegatevi per questa stressantissima diretta serale anzi rilassantissima diretta serale collegatevi giardinieri che questa sera parliamo di come gestire lo stress lo stress lavorativo di un'attività di giardinaggio ciao alex monteleone siete tornato in pole positions con 6s buonasera a tutti quanti collegatevi mettete like sapete qual è la prassi in questo in questo ambiente in questo ambiente potenziante per i giardinieri che in questo club degli imprenditori del verde club degli aspiranti imprenditori del verde quando entrate mettete like perché io do delle informazioni a voi ciao luca casa grande in maniera gratuita e voi pagate in like e chi vuole addirittura potrebbe fare delle condivisioni sono gradite anche le stelline ragazzi che tanto sono gratis non vi costa niente mettere 100 stelle quindi fate quello che vi pare ma mettete qualcosa o condividete qualcosa allora non vedo chi c'è collegato alfonso santorelli buonasera mancavi da qualche giorno dove sei stato troppi prati troppi prati per alfonso come state ragazzi come siete qual è il vostro livello di stress in questo periodo il mio è altissimo ok quella cosa più rilassante di questa giornata è sicuramente parlare con voi ora questa sera lo sapete che mi diverto è un dovut des ciao mattia feo metti il il like io le devo pagare non ho soldi si lavora tantissimo bene ragazzi bene 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 cosa devi pagare alex monteleone all'estera che tu devi pagare non si capisce questa cosa che alcuni sono gratis altri no ciao luca mettete like ragazzi intanto vi racconto brevemente la mia particolare giornata ciao domenico lambiase ok questa mattina ho fatto il testimone in un processo ciao felippo palandri ho fatto il testimone in un processo eccolo luca fabbri appare una volta ogni ogni sei mesi come stai luca come va come va il business business ho già fatto delle call con delle persone in puglia e tutti dicevano business parla parlavano tutti di business che come al capone nel film the anticiables anticiables così si dice penso questa mattina ho fatto il testimone che praticamente io pensavo di andare in una corte no in una in un'aula con i banchi di legno con i giudici col con la parrucca i capelli bianchi ma era una stanza grande come il cesso qui qui vicino di casa c'era la giudice in ciabatte l'altro po con un piumino che sentiva freddo la faccia annerita dalle sigarette ciao daniel buaretto e quindi è stata diciamo molto molto più diciamo più bassa rispetto ai si troppi film americani troppe volte colombo ho visto ciao alessio truzzi e quindi sono rimasto un po disilluso no pensavo di di fare una ringa noi di dire la mio cliente invece quattro domande con gli avvocati che con i rispettivi avvocati che dormivano ok ciao alessandro caranios ciao ragazzi mettete like mi raccomando dopo oramai una prassi prima l'ex monteleone e poi arriva anche tutte e tre serate si è stati 100 di media ragazzi nelle tre serate di vendere il giardinaggio siete stati penso 110 di media una cosa del genere ok quindi non ho appena rapidamente guardato le liste e non saprei dire chi c'è stato e chi non c'è stato comunque bene per essere venuto poi non so chi l'avesse visto e poi iniziamo a parlare del tema della giornata ma avete visto che ho fatto oggi oggi sono stato in un giardino ragazzi cioè l'agricocci in un giardino in realtà passavo con la macchina ho visto un cantiere mi sono fermato e gli ho detto ciao edoardo salsa pure tu mancavi da qualche sera non solo non sei arrivato in orario ma non sei proprio arrivato ho fermato i giardini e gli ho detto scusatemi siccome io faccio l'agricocci no e praticamente non ho mai fatto un giardino e devo far finta che faccio i giardini ogni tanto mi fareste il piacere di farci delle foto finte gli ho dato 10 euro a testa per il caffè in modo che faccio vedere no ciao lino vallone in modo che faccio vedere no che io so che cos'è un giardino ok questa è stata diciamo la allora ragazzi quel giardino sarà abbastanza favoloso sì abbastanza sì no mi piace mi piace verrà molto bello in realtà c'era anche una vasca d'acqua c'è Antonio Cristiani c'era anche uno specchio d'acqua con i pesci però dovete sapere che quando voi volete piazzare l'acqua stagna in qualche modo tutti hanno paura in Italia delle zanzare che voglia dirgli che ci sono le gambusie e il bacillus thuringiensis e tutta quella roba là tutti hanno paura di queste cavolo di zanzare un altro paradigma sbagliato italiano bene visto che siete già un po' mettete tutti i like tra un po' faccio il check like sono Alessandro Di Fonso ok e sono l'esperto numero uno di marketing per il settore del giardinaggio ok e lo sono perché ho fatto finta di fare giardini per 10 anni come oggi ok mi sono sempre abboccato si dice nei cantieri e poi ho implementato le conoscenze di marketing fondamentali cruciali che unendo le due competenze quelle del giardinaggio di alto livello e quelle del marketing di alto livello ha entrato egli io in gamba tesa nel settore del mercato italiano portando una ventata di novità e da un po' di tempo il mondo del giardinaggio si sta assolutamente rivoluzionando con queste figure losche del giardinaggio che hanno iniziato a fare video ovunque hanno iniziato a avere dei veri e propri brand di giardinaggio e che mediamente stanno spaccando il culo ai loro concorrenti di zona grazie alla Grigocci ciao Mariano Solinas ciao Marco Santarelli ok il discorso di oggi il tema della diretta di oggi è molto molto interessante come tutti i temi che ogni sera vi sottopongo o di cui parlo però prima di parlare del tema è fondamentale che io faccia se no poi me lo ricorda Antonio Cristiani il check the like ok andiamo a vedere siamo a 14 quindi non l'avete messo chi non ha messo il like lo metta immediatamente ok se no mi demotivo nel parlare ok oramai vivo di like il like il like si chiama Vanity Metrics ciao Valerio metti il like il like si chiama Vanity Metrics ok è una metrica di vanità tante aziende di scomunicazione e di smarketing come le chiamo io ciao Stefano Taramanco vediamo se questa sera riesci a fare il bravo tutta la diretta buonasera a te come le chiamo io la gestione di smarketing e di scomunicazione ti dicono guarda che io ti faccio avere tanti like sulla pagina e tanti like sui post e tante condivisioni ciao Marco Santarelli e poi tu dici comunque sai che io poi like non ci mangio la pizza non ci vado in vacanza non ci compro i vestiti non ci pago i dipendenti ok ciao Angela Angela quindi c'è questo errore di percezione riguardo all'operato delle agenzie di smarketing e di scomunicazione ok c'è che non sanno fare marketing non sanno fare comunicazione da un lato e puntano sui like ma io ti faccio avere i like io ti faccio avere le visualizzazioni ci facciamo il brodino percino allora ragazzi io sono molto stressato in questi giorni ok ho dei livelli di stress incredibili ok per una serie di di problematiche potrei dire ma sapete ciao Pasquale 40 ciao Pasqua come stai per una serie di problematiche ma sapete benissimo che a me la parola problema non mi piace quindi direi le chiamerei piuttosto questioni delicate ok che allora non sto qui a raccontarvi sarebbe anche carino raccontarvi quello che sta succedendo quello che è successo però poi allungherei troppo il brodo e già abbiamo fatto un po' di chiacchiere quindi ora bisogna parlare del succo del tema del discorso dovete sapere che quando ho iniziato a fare il giardiniere nel 2004 ok ho aperto mi pare a febbraio qualcosa del genere o a fine gennaio non mi ricordo bene ciao Marco Costelli buonasera benvenuto ragazzi scrivetevi a gruppo giardiniere vincente perché poi l'evento la zolla mancante che è il nome che ho trovato ragazzi ho trovato un nome favoloso mi devo le chiavi dalle tasche si terrà proprio su gruppo giardiniere vincente quindi voi dovete stare all'interno se no non lo potrete vedere ricordo che ci sarà proprio una vera e propria lezione e parlerò di dell'anello mancante della zolla mancante del tassello mancante quando ho iniziato a fare il giardiniere quindi a fine gennaio tipo a marzo aprile mangiavo anche pochissimo e tipo mangiavo un piatto di pasta leggero magari con l'olio in bianco col parmigiano a quei tempi stavo molto attento alla linea come ora ok e arrivavano le 4 le 5 di pomeriggio e non digerivo ok cioè mi sembrava come se avessi fatto un pranzo di matrimonio ok è andata avanti questa cosa per un mese due mesi e poi ho iniziato a pensare secondo me c'è qualcosa di brutto cioè magari mi è venuto un qualcosa allo stomaco ho detto è meglio che mi vada a controllare ok allora sono tornato in Abruzzo dove ho i miei dottori di riferimento da buon terrone ok facevo queste cose ora non lo faccio più ho chiamato mamma e papà che si sono allarmati mia mamma e papà hanno un bel network in Abruzzo si sono e mi hanno portato dal migliore no che c'era lì a disposizione quanto più rapidamente possibile morale della favola dopo soli 3 mesi di attività e considerate quale può essere lo stress di un'attività di giardinaggio che apre oggi ok quindi lo stress è praticamente nullo ok perché ovviamente grazie al mio sito grazie alla mia abilità nella vendita arrivavano le opportunità ma insomma cioè non è che c'era lo stress no di chi come voi magari da 5-10-15 anni sul mercato o lo stress tipico di maggio-giugno quando tutti chiamano che dovete correre sono incazzati appena arrivate un minuto di ritardo si incazzano e via dicendo ok non c'era assolutamente quello stress e nonostante tutto è chiaro come la percezione dello stress vari ok anche in base alla nostra età in base all'esperienza no quindi passare da studente universitario a titolare di un'azienda era un bel cambiamento che non c'ero abituato e quei livelli di stress di allora ora cioè mi farebbero sorridere ok non potrei minimamente considerarli come stress morale della favola vado a fare la gastroscopia non so se avete qualcuno di voi ha fatto la gastroscopia ha avuto questa esperienza meravigliosa della gastroscopia ve la racconto ok stavo andando con mio padre che mi ha portato all'ospedale di Sulmona dove c'era questo super medico amico loro e a un certo punto durante il viaggio mio padre tira fuori dalla tasca della macchina una boccetta di Valium e mi dice Alessandro vuoi un po' di Valium? e ho detto boh no che ci faccio perché io precedentemente gli avevo chiesto due volte brutta bruttissima cioè non fa malissimo ma fa proprio schifo come cosa perché precedentemente gli avevo chiesto ma fa male dà fastidio no no tranquillo non ti preoccupare tranquillo vai tranquillo durante il viaggio mi tira fuori la boccetta di Valium e mi dice se vuoi un po' di Valium e io dico scusami ma sei tranquillo perché devo prendere il Valium ma sai non si sa mai è meglio che tu ti prendi un po' di Valium non me lo sono preso arrivo all'ospedale ciao Andrea Carbini arrivo all'ospedale c'era un signore anziano prima di me entra dopo 3-4 minuti sento ahhh c'è un grido tipo una coltellata al cuore ok ho pensato ma l'hanno ammazzato al vecchio ed ero ancora diciamo mi fidavo ancora di mio padre quindi pensavo boh chissà che è successo nella persona anziana no vado dentro c'era il dottore e un'infermiera grassa con le braccia così aveva le braccia così mi fanno stendere sul lettino e a un certo punto l'infermiera mi prende la testa e me la schiaccia da un lato ok ma proprio mi schiaccia la testa così e prendono questo tubo tubo lungo più di un metro graduato il tubo è graduato quindi ha ogni io penso che fosse una tacchetta ogni due centimetri una cosa del genere quindi dieci centimetri aveva cinque tacchette me lo mettono in bocca ok ciao Valentino Russo come stai? stai meglio? me lo mettono in bocca con l'infermiera che mi schiacciava la faccia sul lettino no questa cosa in bocca e iniziano a filare il tubo poi il tubo ha una maniglia tipo quella da motocicletta una manopola ok tipo MotoGP che a voi vi piace tanto perché vi piacciono le motoseghe della Steel 5700 giri al secondo mette 10 centimetri 20 centimetri 30 centimetri vabbè ora avrà finito 30 centimetri dove deve arrivare mi deve riuscire siamo capiti non lo voglio dire e continua a affondare affonda 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 arriva penso un metro ok risponso Alessandro hai l'ernia iatale ok l'ernia iatale è un'estroflessione ok dell'esofago alla bocca dello stomaco che crea una serie di malfunzionamenti allo stomaco quindi un'acidità quindi del flusso gastrico perché rimane un po' aperto lo stomaco quindi succhi gastrici quando si è allungato ti ritornano in gola come si dice e in più provoca anche delle complicazioni nella digestione e mi ha detto il problema sicuramente raccontami un po' che hai fatto gli racconto che cosa ho fatto c'è Giuseppe Ferrandi non è una diretta sulla medicina è una diretta sullo stress gli racconto che aveva aperto l'azienda e mi dice guarda tu molto probabilmente il tuo problema è quello che somatizzi ok sullo stomaco lo stress ok e tanto era mi raccomando non devi bere non devi fumare non devi bere il caffè non devi mangiare tanto non devi mangiare veloce tutta una serie di cose che io allora facevo ok però data la contentezza perché io temevo di avere un brutto male quindi la sera esco tutto tranquillo nonostante i problemi vado in una discoteca bevo fumo mangio e tutto quanto ok strategie per infermieri di successo sì quindi qual è la morale della fabola in soli tre mesi all'inizio dell'apertura di un'attività di giardinaggio che quindi con tutto quello che può comportare è chiaro che c'è il cambiamento il passaggio da studente universitario spensierato ok a titolare di un'attività di una partita IVA di giardinaggio che è 81-30-00 codice a tecco ha comportato quindi uno stress che ho somatizzato sullo stomaco fino ad avere l'ernia diatale che tutt'oggi porto comunque l'ernia diatale è una cosa di cui soffre il 50% degli italiani l'ernia diatale è reflusso gastrico poi ciao Rosa Marinelli ciao zia come stai poi col passare del tempo ok ho imparato diciamo a gestire lo stress fino a quando poi l'azienda è cresciuta tanto e veramente cioè ragazzi io andavo in giro per l'Italia con la macchina mangiavo sempre mentre guidavo a quei tempi non c'erano gli auricolari wireless che c'era l'auricolare col filo e mi ricordo che c'avevo con la mano guidavo con l'altra c'avevo il panino e cambiavo le marce e in più ogni tanto mi si arrotolava il filo dell'auricolare al panino allo sterzo cioè era una cosa devastante ok sempre in macchina quando mi andava bene mi fermavo all'autogrill ok e vi ho detto tutto non so se vi capita di mangiare all'autogrill è il posto peggiore cioè un panino costa 7 euro è vuoto e fa schifo ok se non ti vuoi fermare poi al self service che fa ancora che fa un po' meno schifo ma comunque non è che sia di ottima qualità ok sono arrivato a un certo punto quando facevo già giardini importanti con parecchie esposizioni finanziarie era che la mattina mi svegliavo con con le punte dei piedi dei piedi piegate ok col piede arricciato per la tensione ok cioè avevo il piede accartocciato ok non riuscivo a distenderlo quindi mi alzavo facevo la doccia a quei tempi fumavo tantissimo fumavo 40-50 sigarette al giorno avevo sempre due pacchetti con me un pacchetto di camelite un pacchetto di malboro rosse quindi a seconda del momento della giornata avevo la sigaretta giusta la mattina con quelle più light e poi passavo alle malboro rosse scendevo giù mi facevo il caffè mi fumavo una sigaretta mi lavavo uscivo arrivavo al bar vicino casa mi prendevo un altro caffè mi facevo dare un bicchiere d'acqua ok tornavo fuori Jacopo Bianchini io da quando ho finito scuola sto meglio nessuno stress è perché non arrivano ancora le cose belle comunque ognuno ha il suo stress ok e io sento alcune persone che dicono tu figurati non a me dicono ad altre tu figurati con quello che fai come fai ad essere stressato ognuno è fatto a suo modo ok quindi ognuno sopporta più o meno certe difficoltà ok quindi trasformandoli in stress oppure meno quindi era una cosa molto personale la percezione dello stress arrivavo a questo bar prendevo il caffè il bicchiere di plastica a metà all'acqua mi sedivo in macchina mi mettevo delle gocce di tranquillanti N ok che è un tranquillante un po' un po' più un po' più light rispetto all'oxanax che si prende in pastic o rispetto al volume mi fumavo un'altra sigaretta aspettavo 5-10 minuti che mi partisse l'effetto dell'en quando mi si mi rilassavo e mi si sbloccavano i piedi andavo avanti con la macchina ok arrivato a un certo punto arrivato a un certo punto ho sbroccato ok cioè è diventata la cosa ingestibile invivibile ok e quindi ho cercato diciamo in qualche modo di trovare delle soluzioni a questa roba qui ora dirò una banalità però alla fine della fiera no ciao Paolo Crostella buonasera alla fine della fiera ok noi siamo mangiati dalla preoccupazione ok la maggior parte di noi ed è umano ok ed è per questo ragazzi che io dico sempre che qualsiasi obiettivo qualsiasi successo qualsiasi cosa voi vogliate fare nella vita dovete studiare e imparare a gestire la mente ok perché tutto parte dalla mente dalla mente parte il fatto che voi siete qui a guardare me dopo una dura giornata di lavoro dalla mente parte il fatto che voi contrariamente a quanto dicono tutti i vostri colleghi il marketing non serve a niente perché vai dietro l'agricoch l'importante è zappare il sudore della fronte voi comprate corsi di marketing consulenze studiate dalla mente parte il fatto che siamo corrosi dalla preoccupazione ok ma che cos'è la preoccupazione cariggio e digneri andiamo a fare l'analisi della parola ok noi tutti tutti quanti noi anche io che lo so che l'ho studiato e che ora ve lo sto dicendo che so che non bisogna fare noi siamo corrosi dalla preoccupazione la preoccupazione è una parola composta da pre e occupazione ok significa occuparsi prima di un qualcosa che probabilmente nella maggior parte dei casi non avverrà Alex Montelone ma io penso che chi ormai ti segue un po' gli altri lascia perdere la tempo sì è chiaro ragazzi voi siete nel 3-5% io vi faccio i complimenti perché voi siete la crema ok in ogni ambito c'è una crema ok tra i vostri clienti voi avete un 3-5% di crema quindi clienti altospendenti clienti che non rompono le palle ok voi in questo caso che guardate me che studiate non solo il marketing ma approfondite anche altre tematiche e soprattutto grazie a me che vi sto invitando ad avere una conoscenza multidisciplinare voi siete la crema ok dovete sapere che avrete facilmente gioco che avrete gioco facile se non è in questo momento nel giro di 6 mesi nel giro di un anno nel giro di 2 anni voi sbancherete sbancherete tutti quanti dal primo all'ultimo nelle vostre zone di competenze e vi ripeto che il settore al giardinaggio è vuoto in Italia quindi se qualcuno di voi ha l'ambizione di creare la più grande importante azienda di giardinaggio che è in Italia avrà terreno fertile avrà la strada spianata perché non esiste praticamente concorrenza anche se ci sono quei big che sono oramai delle carcasse nel senso fanno anche dei bellissimi lavori ma sono ancora antichi sono big perché sono da 50 60 100 anni sul mercato ma basta un giardiniere smart con la mente imprenditoriale e il marketing che può sbaragliare chi gli pare però questo è un altro tema torno al discorso della preoccupazione quindi noi ci logoriamo ci andiamo a stressare perché ci andiamo a occupare prima di cose che non succedono quante delle cose per cui noi ci andiamo a preoccupare non succedono dite la verità una cosa che mi ha aiutato molto è stata la lettura di Siddhartha di Herman S Siddhartha un libro bellissimo di Herman S uno scrittore tedesco credo uno scrittore molto famoso dove si approccia in un certo senso alla filosofia buddista ok quindi il fatto fondamentalmente è quello il concetto è che voi non dovete trovarvi in mezzo a un fiume che scorre quindi in mezzo alla corrente ma dovete essere in grado di mettervi sempre sulla sponda e vedere il fiume che scorre ok non so se mi avete capito cioè quando voi siete preoccupati siete angosciati siete stressati somatizzate sullo stomaco voi vi trovate in mezzo al fiume in piena con la corrente che vi porta via non riuscite a ragionare nel momento in cui voi andate sull'argine vi sedete e con tranquillità vedete il fluire delle cose ok lo riuscite a analizzare in maniera lucida ok in maniera distaccata ok senza farvi coinvolgere dal fiume delle preoccupazioni ok questa lì questo libro mi ha aiutato tantissimo quindi da allora poi l'ho implementato con altri studi sono riuscito a non farmi travolgere ok dal fiume in piena ma a gestirlo staccandomi evitando di occuparmi prima di cose che non sarebbero successe ok perché quando tu sei nel fiume in piena e ti arriva l'acqua da tutte le parti non sai se quell'acqua ti affogherà o meno ma tu ti preoccupi che ti possa affogare ok se invece sei fuori dal fiume vedi che la corrente alla fine non è così ingestibile come ti sembra quando ci sei dentro ok questo ovviamente tutto questo quello che bisogna fare è sicuramente andare a migliorare la gestione dell'organizzazione ok organizzarsi tornando al discorso di ieri nel quale si parlava fondamentalmente di pianificazione aziendale faccio un check like perché questa diretta è una diretta da 25-30 like quindi vediamo a quanti siamo siamo a 23 quindi chi non ha messo il like ne mancano Cristiano Catozzi secondo me non ha messo il like quindi lo dovrebbe mettere è una diretta da almeno 25 like che poi arriverà a 30-31 non mi ricordo che stavo dicendo comunque il discorso è che ecco ieri parlavamo di pianificazione quindi pianificazione per il futuro anche per la giornata quotidiana ma l'organizzazione perfetta del lavoro ok ti va a battere molte tensioni perché tu comunque quando noi abbiamo tante cose da fare quello che si crea nella nostra testa è la preoccupazione per la marea di cose che dobbiamo fare perché non sono messe in ordine e qual è il nostro istinto naturale è quello di iniziare a fare più cose contemporaneamente per cercare di risolvere prima possibile di finire di completare le operazioni gli impegni prima possibile e iniziamo a pescare a caso senza vedere che effettivamente stiamo andando avanti stiamo eliminando delle cose che abbiamo fatto e il fatto di capire che le abbiamo fatte questo ci porta subito al giovamento che ci dà una spinta in più per terminare il resto perché abbiamo perché vediamo un avanzamento Alessandro Alino ciao stress uguale clienti impazziti e piove un mese di seguito ora arrivo a questo punto ok nel momento di stress ragazzi io vi consiglio di fare di fare la meditazione ok vi consiglio di fare la meditazione ma ora non andate via perché concludo con una con una cosa pazzesca ciao Giuseppe Boffa come stai vi consiglio di fare la meditazione ora la meditazione voi dite ma che cazzo dici io non sono un santone indiano la meditazione anche io la conoscevo cioè fraintendevo il termine ok meditare che cosa serve serve per annullare i pensieri nella nostra mente ok quindi quando noi andiamo a annullare i pensieri nella nostra mente si rilassa il cervello ok i pensieri nella mente insomma quello che pensiamo ok abbiamo un rilassamento dello stato fisico ok ciao Andrea come stai l'ho scoperta nel senso avevo degli amici che meditavano io li prendevo anche un po' per il culo facevo come giardinieri tu vai a fare meditazione guarda che imbecile chissà che cosa vai a fare lì andate a fare le preghiere magiche questo dicevo io da ignorante capra ok poi sono andato a fare un corso di public speaking ok sono andato a fare un corso per migliorare la mia capacità di parlare in pubblico e questo corso di questo formatore qui locale è un corso molto particolare oltre a darti delle dritte per parlare in pubblico ti fa rilassare con la meditazione quindi ho fatto tre giorni di corso di public speaking e ogni giorno facevamo tre quattro sessioni di meditazione ok da 15-20 minuti mezz'ora ragazzi cioè io tornavo a casa ok tornavo a casa la sera mi mettevo sul divano e mi sentivo di una rilassatezza avete presente quando fate sport però quando siete in forma ok fate sport da in forma non sport che non siete in forma e poi avete tutti i dolori muscolari quando fate sport e siete in forma tornate a casa vi fate la doccia vi mettete sul divano e vi cala tutta la la tensione l'adrenalina e siete ciao Ron e siete proprio nel paradiso ecco ho iniziato a avere quell'effetto dalla meditazione all'ennesima potenza cioè la sera mi sentivo veramente al settimo cielo le endorfine sì avevo un rilascio di endorfine di dopamina di tutti gli ormoni grande Mattia Frediani ma Frediani è un cognome locale ma di dove sei? di Pisa di dove sei Mattia Frediani? e tu c'è un cognome pisano livornese dove sei? lucchese dove sei? c'è un cognome locale tu comunque quindi la meditazione e vi do vi do anche un nome su youtube Alto Pascio grandissimo siamo vicini su youtube trovate un formatore un meditatore si chiama Carlo Lesma su youtube che ha centomila meditazioni ok? le potete fare anche durante il giorno con le cuffiette ok? anche nel furgone vi mettete lì 15-20 minuti a seconda del tipo di stress che avete c'è proprio la meditazione perfetta per quel momento ok? 15 minuti 20 minuti mezz'ora ora per carità vi direi una bugia se vi dico che la faccio tutti i giorni ok? in realtà ora che ve ne sto parlando da domani mi rimpegnerò a farne ok? ma arrivate a mezza giornata intorno all'ora di pranzo anche per addormentarsi perché sono delle meditazioni rilassanti che tu inizi a meditare e poi ti addormenti e ti svegli super rilassato ok? Carlo Lesma ve lo scrivo guardatelo metto il canale YouTube così capite che cos'è la meditazione e vi garantisco che funziona tantissimo ok? non prendetela sottogamma non pensate che vi sto raccontando una cosa esoterica ok? è una cosa figa ok? è una cosa fighissima bene ora andiamo a concludere ragazzi dicendovi la bomba ok? non andate a guardare ora non vi distraete che ora vi dico una cosa fondamentale allora avete presente avete presenti quei locali no? quei ristoranti quelle catene di successo ok? un po' come succede in agristeria ok? che non sarebbe niente di male sì non c'è niente di male la meditazione ripeto non è una cosa esoterica è l'annullare il proprio pensiero in modo da far rilassare la mente il cervello e il corpo ok? quella la meditazione avete presente quei locali dove c'è la fila per entrare? dove tu vai a mangiare? rispondetemi dai interagite un po' sì sì no avete presente quelli che che andate lì dovete fare magari mezz'ora 40 minuti di fila dove magari non potete nemmeno prenotare ok? avete presente ok? in quei posti lì cari giardinieri ora io diciamo non sono proprio il tipo l'ho fatto perché sapete che sono nel mondo della ristorazione e quindi devo vedere dei locali devo capire il meccanismo che è li portava al successo e quindi l'ho fatto l'ho fatto volentieri anche a volte ovviamente un po' mi scoccia però c'è gente che ci va costantemente e fa delle code di mezz'ora 40 minuti senza poter prenotare ok? per per mangiare ok? famosissima è la pizzeria da Michele a Napoli non so chi la conosce pizzeria storica dal 1870 una cosa del genere tu non puoi prenotare là ok? arrivi davanti alla pizzeria ti danno il bigliettino tipo quello delle lotterie del circolo del circolo Arci e tu tu ti aspettare per strada ma devi aspettare 100 persone poi loro sono veloci a farti la pizza ma devi aspettare 80 90 100 persone ok? ciao Davide Brugna io li ho aspettato con piacere perché ero curiosissimo di vedere di mangiare la vera pizza napoletana ok? e ci sono stato più volte ok? tre volte sono andato davanti a Napoli a Napoli ci vado spesso ultimamente le prime due volte siccome avevo anche degli appuntamenti di lavoro non c'è preso il bigliettino tipo ero il 150 e erano al 20 ok? quindi dovevo aspettare 130 persone due volte mi è successo così la terza volta nel 2019 ero con Mattia che è la mia fidanzata vi ricordo che non è un uomo ma una bellissima donna avevamo pure questa volta un numero pazzesco Mattia trova per terra un fogliettino ok? che qualcuno mi ha buttato perché non voleva più aspettare ed era un numero buono e quindi cavolo abbiamo visto che ci mancavano 30-35 persone grazie Alfonso sì io quando vado a Napoli mi ingolfo di pizza caffè sfogliatella pizza caffè sfogliatella pizza caffè sfogliatella pizza caffè sfogliatella torni con la pancia così da Napoli ok? pizza fritta poi ogni tanto ciao Alessandro Cavarzano siamo riusciti a mangiare siamo andati a mangiare questa pizza della Michele allora perché sto parlando delle cose da ristorante? perché quei ristoranti che sono ambiti che sono desiderati ok? sono ristoranti che sono un'autorità del settore Davide Brugna il miglior vivaista del Trentino si stanno scambiando effusioni Luca Casagrande Davide Brugna sto vedendo ragazzi sto notando con molto piacere che si stanno avvicinando da l'e-coach tantissimi vivaisti ok? ora ce n'è uno magari ce n'è qualcun altro ragazzi io vi dico che nonostante ne parli poco se siete dei vivaisti dovreste comprare i miei corsi e le mie consulenze perché anche per vivaisti ci sono delle strategie pazzesche ok? pazzesche perché mio padre aveva il vivaio ok? mio padre aveva il vivaio e negli ultimi anni ho messo a punto quindi sperimentato e testato una strategia incredibile ok? che io vi consiglierei di approfondire quindi non sottovalutate l'agri-coach anche proprio per la vendita in store per la vendita al minuto delle piante che è pieno di strategie che io vi posso insegnare finita parentesi detto questo torno al discorso quei ristoranti famosi dove la gente accetta di fare 30 40 50 minuti di coda ok? e lo fa anche con piacere perché quei ristoranti sono un brand perché quei ristoranti sono differenti pizzeria da Michele è dal 1870 cazzo se non sanno fare bene la pizza loro che la fanno da 140 anni ok? o da da 150 anni perché 1870 è 150 anni chi la sa fare la pizza ok? quello è un elemento differenziante per storia ok? ma ci sono tante catene nuove tipo la catena pescaria non so se la conoscete dove fanno i panini di pesce sono tante catene con la coda ok? quindi con la gente che si affanna ed è disposta a soffrire pur di mangiare dentro questo avviene perché queste catene hanno l'autorità perché sono un brand che rappresenta dei valori o che rappresenta un'innovazione e quindi danno la voglia permettono mettono le persone in condizione di soffrire perché sono si fanno ambire e chi gestisce quei locali ed è la cosa che io dico ai miei ragazzi che per fortuna il locale la gristeria sta andando sempre meglio e quindi ci sono le code per entrare e anche dei tempi d'attesa che ovviamente dobbiamo migliorare nella gestione a volte anche un po' elevati io le dico ragazzi voi vi dovete mettere nella condizione di essere di essere ambiti questo lo dico anche a voi giardinieri ok? è chiaro che occorre tutto il lavoro a monte di branding di marketing e via dicendo ma anche è una questione di mindset di approccio ok? cioè nel momento in cui il cliente ci rimprovera perché siamo arrivati in ritardo perché vogliono il lavoro il giorno prima ok? c'è gente che ti chiama quando devo venire devi venire ieri fa la battuta ok? cioè non esistono queste cose cioè ieri non esiste se voi veramente siete unici se voi veramente siete differenti il vostro cliente non è che vi manda a quell'altro paese non vi manda affanculo perché ha paura di perdervi perché vuole lavorare solo con voi è la stessa motivazione per cui le persone sono risposte a pagarvi di più ok? ma se voi non siete differenti non avete un brand non sapete fare il marketing tutto questo non avviene siete nello stesso calderone e nel quale morto un papa se ne fa un altro quindi non solo il cliente vi manda all'altro paese se voi fate anche un minuto di ritardo o un giorno magari ha piovuto per una settimana il cliente ha il terreno argilloso vede un raggio di sole il giorno dopo nei canali che avete scavato negli scavi dell'irrigazione c'è pieno d'acqua e ci sono i pesci ci sono gli squali che girano vede un filo di sole vi chiama incazzato perché non siete andate a lavorare e voi ha voglia a spiegare no guardi signora ma veramente c'è l'acqua e non possiamo lavorare che questo è un problema che si risolve con AgriCoach con quello che insegna AgriCoach con i done for you quindi con il fatto che io vi faccio il brand vi rendo differenti che in quel momento là il cliente vuole lavorare solo con voi voi avete più autorità perché quanta gente con quanta gente collaborate quanti clienti avete che vi vogliono insegnare loro cioè ricordiamoci che siamo nel mondo del giardinaggio in Italia dove la cultura del verde è bassissima e mediamente il vostro cliente o la maggior parte dei vostri clienti pensa che siccome ha letto una volta Gardenia pensa che possa conoscere il giardinaggio più di voi perché vi reputa uno scopafoglie succede questo succede non lo negate lo potete negare a me ma non lo potete negare a voi stessi ok mediamente i clienti del giardiniere italiano hanno una bassissima considerazione tutti quanti dal primo all'ultimo pensano che un po' di giardinaggio perché il giardinaggio non è una cosa per cui occorre essere formati tecnicamente tutti possono opinare ok quindi non vi ascoltano quando voi li spiegate ma guardi signora effettivamente il terreno è molto agilloso non non assorbe bene l'acqua oggi non possiamo lavorare non si fidano si incazzano come le iene perché vedono un raggio di sole e secondo loro voi dovreste andare lì magari con lo scavatore a affondare con i cingoli nel giardino ok ma questo è un problema che viene generato dalla permettetevi ragazzi non vi offendete dalla vostra ignoranza in materia ok nel momento in cui voi siete unici ok avete il mindset giusto il vostro obiettivo deve essere quello di creare le code e di saperle gestire con sicurezza ok io sono il giardiniere più gettonato della mia zona se vuoi lavorare con me devi fare la coda non ti azzardare più a chiamarmi e a rimproverarmi perché se no io da te non ci vengo più e il lavoro te lo fai fare da tutti gli altri cazzo di scazza cani alla vostra evoluzione